Cari fratelli, cari sorelle, domenica scorsa la Chiesa ci ha fatto celebrare il giorno della Pentecoste, il dono dello Spirito che si è diffuso sulla Chiesa e sul mondo. Quest'oggi la Chiesa ci ricorda un altro grande mistero, il mistero trinitario, la trinità che anima la vita della Chiesa e che dà vigore alla vita di ogni credente. Invochiamo l'azione dello Spirito, Padre Buono tu che hai mandato nel mondo Gesù questa parola di verità e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini proprio il mistero della vita, della tua vita, fa che possiamo essere tutti riconciliati nel Figlio e possiamo attraverso il Figlio sperimentare quella sapienza che ci permetta di giungere alla piena conoscenza di te, che sei la pienezza dell'amore, la pienezza della verità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Cari amici, è bello quest'oggi soffermarsi su questo mistero trinitario, tante volte si parla della trinità come qualcosa di misterioso, ma credo che le letture ci aiutano a entrare un po' dentro questo mistero, a cogliere soprattutto le relazioni che esistono tra queste tre grandi persone, tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. Soffermiamoci anzitutto sulla prima lettura che è presa dal libro dei Proverbi, il capitolo 8, dove il testo direi estremamente breve, ma è un testo ricco, denso di teologia, dove si parla della sapienza di Dio, questa sapienza che non è isolata, ma è una sapienza personificata che agisce nell'opera della creazione. Difatti questa sapienza è presente quando fu creato il mondo, nella creazione, è presente tra gli uomini nella storia degli uomini, è presente questa sapienza e dà senso all'agire del mondo, all'agire degli uomini. Ma nello stesso tempo questa sapienza che abita in Dio è una sapienza, potremmo dire, personificata nella parola di Dio e noi sappiamo che questa parola poi si è visibilizzata, questa sapienza di Dio nel Nuovo Testamento si è visibilizzata nella persona di Gesù. Gesù fatto uomo, il Figlio di Dio fatto carne in mezzo a noi che è diventato Gesù di Nazareth. Per questo nel testo dei Proverbi si dice che la sapienza trova le sue delizie tra tutti i figli degli uomini. E passiamo alla seconda lettura che Paolo mette in luce nella lettera ai Romani proprio questa realtà di Dio, quando dice che l'uomo non può rifiutarsi di sperare. L'uomo deve essere sempre aperto alla speranza nonostante le difficoltà della vita, nonostante che la vita potremmo dire non l'aiuta a cogliere questa speranza. Pensiamo oggi quante persone vivono senza speranza. Ma qual è il fondamento di questa speranza, della speranza cristiana? Il fondamento è che Dio ci ama, che Dio è morto per noi, per amore, per amore nostro. Dunque dirà Paolo la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Mi sembrano parole veramente confortanti per tutti noi. Dunque l'esistenza cristiana si muove in questa logica. Siamo giustificati da Dio e siamo giustificati per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito attraverso la fede, attraverso la grazia, la speranza, l'amore. E allora veniamo anche al Vangelo che è una sintesi di tutto questo mistero trinitario. L'Evangelista Giovanni nel capitolo 16 dal versetto 12 al 15 ci parla di Gesù, di questo Gesù che parla del padre, parla dello Spirito, parla di se stesso. Dunque è un testo dove queste tre persone del mistero trinitario hanno relazioni tra di loro. Anzitutto la relazione che Gesù ha con il padre e questa relazione ce l'ha nell'ordine certamente dell'amore, nell'ordine del dono. Il figlio tutto ha ricevuto dal padre. Ma questa relazione, lui dice, si esprime attraverso proprio il figlio. Si esprime nel figlio. Cioè si va al padre, ogni cristiano può andare al padre, può raggiungere il padre attraverso il figlio. Perché dirà Paolo nella lettera romana tutto quello che il padre possiede è mio. Ed egli il padre mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo comunicherà, ve lo annuncerà. Sono parole veramente che ci confortano enormemente. Dunque possiamo dire che il volto del padre è visibile nella vita di Gesù, nelle parole di Gesù, nelle opere di Gesù, in quello che Gesù ha compiuto nell'arco di tutta la sua vita. E veniamo anche alla relazione che Gesù ha con lo Spirito. Gesù parla molte volte dello Spirito. Parla della sua figura, della sua funzione, della sua missione. E dirà che lo Spirito guida il discepolo a comprendere tutta la verità di Dio. È lo Spirito che assiste la comunità e la guida per capire, per vivere nella fedeltà e direi a conservare questa memoria che Gesù ci ha lasciato. Soprattutto questa memoria che è sintesi del volto del padre. E poi lo Spirito Santo, potremmo dire, riprenderà in noi, nella comunità cristiana, l'atteggiamento di Gesù. Cioè, come Gesù è stato glorificato dal padre, così il padre prenderà tutto ciò che è Gesù e lo annuncerà a tutti noi. Dunque, vedete, il grande insegnamento che viene dallo Spirito è proprio questo. Lo Spirito è colui che ci guida verso e dentro la pienezza e la verità di Dio. C'è una parola dunque che ci deve dare veramente consolazione. Perché lo Spirito ci donerà questa conoscenza interiore, progressiva, spirituale, dell'azione stessa di Dio, del mistero trinitario. Noi possediamo dentro di noi questo mistero trinitario, questa presenza del padre, del figlio e dello Spirito. E questa conoscenza profonda sarà opera dello Spirito, che interiormente ci farà conoscere e personalmente l'azione di Dio. Ma lo Spirito rivelerà non soltanto le cose presenti, il progetto di Dio su di noi, ma rivelerà anche le cose future. Quando parliamo di cose future non si intende tanto gli avvenimenti del presente o del futuro, i fatti della cronaca. Non si tratta di questo. Ma lo Spirito ci aiuterà a fare una lettura della storia presente, della nostra vita. E questo alla luce della storia di Gesù. Questa storia che ci fa vedere dove tende il compimento di questa storia, cioè fino al giudizio di Dio, che già si è realizzato nella persona di Gesù. Dunque, vedete, la vittoria finale di Dio non è tanto, diciamolo, una vita crocifissa, ma è la vittoria di Dio, l'amore di un Dio crocifisso che ci ha aperto, ci ha spalancato il Regno dei Cieli. Ebbene, a questa vita, a questa vittoria definitiva, tutti noi siamo incamminati. E la Chiesa che è incamminata rivivendo il vissuto di Gesù, l'agire di Gesù. E questo attraverso la potenza dello Spirito. Padre Buono, ti vogliamo ringraziare di questo dono che ci hai fatto della realtà di Dio. Un Dio grande nell'amore, un Dio trinitario che si esprime nella paternità, nella figliolanza e in questo amore profondo che tu hai dato a ciascuno di noi. Fa che questa azione dello Spirito, questa potenza di Dio che sta dentro di noi, possa agire con pienezza per portare a compimento i nostri progetti che tu hai sopra ciascuno di noi. Ti chiediamo questo, Padre, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Grazie